ciao ciao no ma stess 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 come state? io spero che siate sereni rilassati con la pazza piena oggi ho qui con me una serie di oggetti che producono suoni davvero molto 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 belli faremo quindi una sorta di trigger mix il tutto accompagnato dalla mia voce sussurrata e dal mio stomaco che prontola iniziamo subito col primo oggettino si tratta di questi bastoncini natalizi che scrivono a questo proposito inizio subito con l'augurarvi buon anno buon anno buone feste buon natale buon natale con un po' di ritardo mi auguro che questo 2021 possa regalarvi tranquillità tranquillità normalità a dire il vero vi auguro e ci auguro di poter riprendere la vita in modo regolare in modo regolare dobbiamo essere ottimisti pensare che le cose si risolveranno pian piano pian piano con calma io ci voglio credere mi dispiace essere stata assente in questo periodo ma sappiate che è stato contro la mia volontà infatti ero partita con tutte le buone intenzioni di registrare molti video per voi in questo periodo di ferie ma non avevo messo in conto che le ferie non erano solo le mie ma di tutti quindi anche della mia famiglia dei miei vicini dei passanti e ad ogni ora del giorno e della notte non scherzo c'era particolarmente rumore chiasso vociare e quindi questo ha reso per me impossibile registrare come avrei invece sperato ci ho provato diverse volte ho passato molto molto nervoso perché comunque ho impiegato tempo ed energie ma puntualmente è risultato impossibile concludere il video voi direte voi direte potete registrare di notte e ci ho provato ma ho scoperto che mio fratello è un animale notturno che guarda che guarda la televisione fino ad orari improponibili quindi anche la notte non era un'opzione per me ad ogni modo ha una certa c'è un po' rinunciato ne sono letta pazienza ne approfitterò anch'io per riposarmi per staccare un po' la spina questa è una bustina di fai datti l'ho regalata ad alcune mie amiche che per Natale contiene appunto tè aromatizzato con i profumi e i sapori del Natale quindi con arancia, mela, cannella chiodi di garofano quindi diciamo che mi sono presa un po' una pausa non volontaria però quindi ora ho sicuramente molte idee e molta voglia di rimettermi all'opera ma la cosa più importante che desidero dirvi già da un po' è grazie 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 di cuore per avermi fatto il più bel regalo di Natale che mai avrei potuto ricevere e mi riferisco al traguardo dei mille iscritti in realtà siamo già a 1100 ed io davvero non ci posso credere mi sembra assurdo bellissimo siamo diventati una famiglia vita che continua a crescere ed io non potrei esserne più felice il vostro supporto è davvero tanto per me in questo momento è una cosa fantastica e l'ho aperto nelle vostre parole nei vostri commenti anche nelle critiche costruttive che apprezzo non è quel misuro quindi davvero grazie grazie di cuore e a questo proposito mi piacerebbe poterlo realizzare qualcosa di speciale e sto valutando se posso fare Q&A Q&A quindi un video di domande risposte nel caso in cui qualcuno di voi sia interessato a sapere qualcosa di più su di me se così non fosse non mi offenderò però non so a me piace sempre conoscere qualcosa di più della vita dei creator che seguo magari vale lo stesso per voi quindi nel caso sentitevi liberi di lasciarmi domande qui sotto nei commenti sia tradizionali che fantasiose ed io farò del mio meglio per rispondere magari appunto in un video dedicato oppure potete scrivermele per email o eventualmente anche su Instagram a questo proposito sì ho una pagina Instagram dedicata al canale che si chiama Shantygram ASMR trovate il nome scritto correttamente giù in descrizione è una pagina in realtà che avevo creato già un po' di tempo fa ma non l'ho mai realmente utilizzata infatti ancora infatti ancora non ci sono contenuti e ho cancellato le cose vecchie che avevo inizialmente pubblicato perchè non è il tipo di approccio che voglio avere quello magari di pubblicare contenuti solo relativi a un video che sta uscendo così non mi piace molto e ne voglio approfittare invece magari per entrare in contatto con qualcuno di voi però non sono una persona particolarmente social quindi non prometto nulla vedete voi se per caso vi interessa seguirmi anche lì oppure no questa è una crema che mi ha regalato una mia cara amica per Natale non l'ho ancora aperta perchè ne sto finendo un'altra ma sono molto molto curiosa perchè proviene da un negozio che mi piace molto cos'altro dire? ho acquistato una ring light non la vedete ma si trova proprio qui di fronte a me in questo momento devo ancora un attimo prenderci bene le misure infatti spero che questo video non sia eccessivamente luminoso sto avendo un po' di problemi di luce di sfondo di computer qualsiasi cosa infatti questa è la quarta volta che mi metto a registrare questo video anche per tutti i motivi di cui vi ho parlato poco fa dei rumori vari ed eventuali quindi speriamo bene che ho ho fatemi sapere come avete passato queste feste e come è iniziato per voi il 2021 sono davvero curiosa ditemi anche cosa avete mangiato in queste feste io sono una fan del cibo una colosone e per me Natale significa una montagna di cappelletti in brado della variante romagnola quindi con un ripieno solo di formaggi e senza carne e a proposito di cibo sono curiosa di sapere cosa ne pensate dei mukbang ovvero i video in chiave ASMR in cui la gente fondamentalmente mangia davanti alla telecamera io inizialmente non pensavo potessero piacermi ma poi in realtà ho iniziato a guardarli e ad apprezzarli non per rilassarmi ma semplicemente perché mi piace tantissimo il cibo protagonista di quei video e davvero mi fa molto strano perché nella vita reale di persona non sopporto i rumori di masticazione altrui e quindi pensavo che guardando dei video in cui questi rumori sono amplificati da microfoni mi avrebbe creato particolarmente disagio e invece no quindi fatemi sapere cosa ne pensate io nel mentre sto valutando anche in questo caso se provare a farne uno magari con il Q&A chissà devo ancora decidere io spero che non sentiate troppi rumori di sottofondo come vi avevo già detto purtroppo la mia casa è molto piassosa questa è una scatola che proviene dall'Uzbekistan io la trovo bellissima e lo suomo del legno mi fa impazzire l'Uzbekistan è un paese meraviglioso così come tutta l'Asia centrale a parer mio che penso sia un po' sottovalutata ma davvero meraviglioso i paesaggi l'architettura la cultura una cosa che non vedo l'ora di fare non appena sarà possibile sarà più sicuro a viaggiare come me penso anche tante altre persone qual è invece la prima cosa che desiderate riprendere in questo nuovo anno non appena ce ne sarà la possibilità se è una cosa appunto che vi è stata tolta limitata a causa del terribile periodo che stiamo vivendo un'altra la società non appena non appena non appena non appena la loro l'agrappi non appena Grazie a tutti. Bene. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi auguro una buonanotte e sogni d'oro. Noi ci vediamo presto. Presto, presto, presto. Buonanotte. 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 Buonanotte.